È come una partita a scacchi. Da una parte gli inquirenti, il nucleo di polizia tributaria di Venezia, che hanno sentito il primario dell'ortopedia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, Sergio Candiotto, il direttore medico dell'ospedale di Este, Maurizio Agnoletto, il radiologo che ha eseguito la prima lastra, in qualità di testimoni, più gli altri medici che in queste settimane hanno avuto a che fare con l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan dopo che quest'ultimo si era rotto una gamba. Le fiamme gialle si sono mosse su indicazione del pubblico ministero lagunare Stefano Ancilotto, che ha aperto un'inchiesta parallela al caso Mose per capire se diagnosi e ricovero del deputato di Forza Italia rispondessero ad una reale necessità. Il primo confronto tra Galane magistrati nel carcere di Opera a Milano, dove si trova detenuto da martedì 22, è durato mezz'oretta, il tempo solo di consegnare l'annunciato memoriale che, rispetto a quello a suo tempo depositato alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, non contiene gli otto omissis, riferiti alla ex segretaria Claudia Minutillo. Omissis che dovrebbero spalancare nuovi scenari nell'inchiesta su Mose, Consorzio Venezia Nuova e presunte tangenti. Allegato al memoriale, una corposa documentazione che contesta tutte le accuse mosse dalla Procura di Venezia, altre volte governatore del Veneto, dalle spese per ristrutturare la sua splendida abitazione padovana di Cinto Euganeo ai contestati conti correnti. A ognuno dunque le proprie mosse, la partita è cominciata.